Ciao a tutti, rieccoci qui con la compagnia di Lego, sempre su Minecraft ovviamente Pazzesco, ciao! Questo Lego che ormai sta diventando... Un pro di Minecraft, ormai sconosco tutti i segreti Ormai è diventato pazzo di questo gioco Eeeh, giorno e notte, notte e giorno In questo ultimo episodio i nostri obiettivi saranno prendere il blocco giallo di lana e il blocco marrone E infine l'ultimo diamante Partiamo con il blocco giallo che è dietro di te, Lego Io parto con un bellissimo fail, come sempre Ottimo, il modo migliore per iniziare la giornata è fare un fail E fare un piccolo fail Anche perché i nostri spettatori divertono vedere talvolta un terribile fail Sì, quanto sono scarso nel fare le mappe parkour Vediamo Ok, di lì si salta semplicemente qui E qua è facile Sembra molto semplice questo giallo Mi sa che, guarda, io non vorrei dire ma Abbiamo beccato i più difficili nelle prime puntate E ora stiamo beccando quelli più semplici Non ti pare anche a te? Oh, perché siamo migliorati, cosa in cui io non credo E quindi sì, penso che effettivamente adesso siano tutti più semplici Ma nonostante siano più semplici io non riesco più a salire questa scaletta È una cosa abbastanza ingiusta Certamente dovrebbe esserci una difficoltà crescente Ho reclamo verso il creatore di questa mappa Oddio, mi stavo sparando troppo in là Io ho paura di cadere, sono altissimo Se cado giù da qua sono morto Morto? Vabbè, non importa Insomma, non ti piangerò tranquillo Grazie, grazie Non sa che io mi sono bloccato qua all'inizio Stavo già morendo Oddio, io stavo rimorendo ancora Mi stavo ributtando giù Placcia la torccia di rosso sul blocco nel centro Non ce l'abbiamo E rapidamente salta Nel luogo A tua left Quindi piazza quello che non so se tu hai Perché non so se abbiamo Ma E dov'è il blocco giallo, scusa? Che si è più qui sotto? Questa forse non è Aspetta, ferma tutto Qua c'è il giallo, so, qua si Questo è giallo, no? Si Bah, che strano Qua non c'è niente Vabbè, intanto prendo due piume Tu sei riuscito a salire, Lego? Mi sono scelto due volte perché mi chiamavano giù Cioè, ci sono, eh Non aspetta Mi fai anche scendere Ok, ok, quindi Non ti consiglio Ho poco dell'altezza Vabbè Piazziamo la torcia Stai attento Perché sicuramente qui esploderà qualche Ti guardo da giù Che bello vederti Guardami Guardami dal basso Verso l'alte Perché ovviamente i più forti Stanno sempre in alto Che strancio Allora Ho paura di questo cartello And quickly jump Into the water To your mouth Non me la cicchi Ecco No, no, l'ho preso L'ho preso Guarda l'esplosso tutto Ora Che vandolo? Io che volevo salire? Ora in teoria Spero che risaliamo E troviamo Quello giallo Spero Beh, penso di sì Intanto storobolo Vomito via Oh, io cadono il dubbio Dai, Lego Forse ora che la torre smezzata Riesci a salire Però ci sono dei blocchi Ah, ho raccolto Passi un blocco di Sì, no, quelli sono dei blocchi Che sono esplosi Stai tranquillo, Lego Spec Ah, sai cos'è? Questi gradini esplugianti Mi mettono sempre pressione Ti mettono ansia Sì, cioè Proprio ti mettono Vedi, vedi, vedi No, è Si è bugata la costruzione evidentemente Dopo l'esplosione Non è più Non è più possibile Guarda come Un po' Eh, beh, sì Sì, sì Oh, ce l'ho fatto il primo Ce l'ho fatto il secondo Ce l'ho fatto il terzo Ok Credi in me Ambo, credi in me Credo in te Perché io non riesco a salire Non so per quale motivo Beh, ci sono C'è, c'è, ci sono C'è un diamante C'è un diamante Ma c'è un bocco giallo Oh, io poso un diamante comunque Buono Vabbè, meglio Meglio il diamante No, oddio Aspetta, aspetta Fammi spazio Controlliamo Aspetta che sto cercando di capire Come si esce da questo minuto Indemoniato Vabbè Dai una bella controllata E controlla se c'è effettivamente Attenzione ragazzi Ma questa è la faccia Lego ce l'ha fatta Avete visto Ma non era dalla cima Non penso che valga Lego ce l'ha fatta Vomitami un po' il coso Come si volta? Con B si vomita Con B, eccola qua Sì? B non mi vomita niente Come? Ah, ho detto una cazzata Ferma tutto Ho sbagliato il tasto Con cui si vomita Oh, ecco fatto Con cui si vomita L'ho fatta Sono andato nel menu La mia abilità Allora Quindi Questo giallo Evidentemente Non c'entrava niente Era il diamante quindi Allora dobbiamo passare sul Ah, ma se cosa Aspetta Cosa c'è la base qua sotto? E questo è il diamante della base Vedi? Quindi siamo così Cioè C'è neanche solo E allora Il blocco nero Dobbiamo cercare Che sta Dentro qua Evidentemente Eh, sì, sì, sì Vabbè, allora Questo che dobbiamo lasciare per ultimo In realtà l'abbiamo preso per primo Senza Senza accorgerci Quindi dai Direi di partire col blocco nero Sembrava troppo semplice Per essere Vero lento Eh, purtroppo Ci sono Sembra molto easy Sono dei Dei lampioni Che ci porteranno Alla vittoria Wow Ok, però questo è un saluto impegnativo Ma no, no Vai tranquillo Guarda che sei già arrivato Wow Andiamo qua Qui Qua dobbiamo buttarci giù No? Fammi controllare un attimo Wow Brittata di ambu Quando sei giù Fammi un cenno di vita Se vivo, sì Ok Puoi scendere Ah, ci sono delle scaglie Qua è duretta A posto Vai, prova Faccio salto al consotto Ok Ok Guardate l'ego Che sta già riuscendo Ok Ah, duretta Cioè, stavi scherzando Ah, ma stavi scherzando Il ragazzo stava scherzando Hai visto come stavo scherzando Con quel doppio salto Oh, cacchio Questa libreria Sembra impossibile Se voglio spoilerai nulla Ma qua non ce la faremo Ah, mi stai dicendo che Io pensavo che eravamo arrivati Buono, buono Oh, no, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta abbastanza Oh, dio mio Cos'è sta libreria Non sembra impossibile Ma non sembra neanche possibile Non so se non mi spiego Questo lego Oh, cacchio No, no, va bene Le map per cui No, sono caduto Fanno sbroccare Non è possibile Ma perché Beh, devono fare Tutta questa comp... Cioè, non possono farla facile Facile, facile No, no, devono mettersi lì A fare tutte queste cose Tutte queste cose Le scale immobili Non esistono più Cioè, tutte queste tecnologie Un'ascensorina Allora Ok, che quello è un po' duo Però si fa Cioè, l'ho fatto Penso che l'ho fatto Come al solito una volta Non lo farò più Quindi Eh Io sono fortissimo Invece Ma sai perché Io lo faccio Quando tu non ci sei Non mi puoi riprendere E poi dopo Sì, infatti Così può dire Ah, no, ma io l'ho fatto Ecco appunto Guarda che L'avevo fatto Ah, sì Guarda, è in fondo Poi sono caduto Guarda io Eh Di là ci sono arrivato Poi Vaffanculo C'era il tetto Hai capito come funziona Quel pezzo lì Dei due cosi attaccati Ecco dove sei Ora Praticamente c'è il tetto Eh, sì Devi buttarti giù E c'è la scaletta Io non me ne ero accorto Infatti ho tirato una testata Contro il tetto E sono caduto giù Che pipa Proprio all'ultimo Devo cadere Davvero Nessuno Eh, a me ci sono arrivato Ma non vuol dire niente Arrivarci e morire Oh, oh, oh Sono bugato Guarda Si è bloccato Personaggio Bugà Che cazzo Boh, vabbè No, no, no Poi questo qua Voglio vederne nel video Cosa è successo Perché non è possibile Porca miseria Io chiudo tutto Dei fuoco a questa libreria Prendi un accendino Dei fuoco a tutto Mi sa che tra poco Se continua così Dovremmo tagliare Capitano Legolas Mi sa che può essere Una buona idea Però io mi sento Che è la volta buona Anche tu te lo senti Io Sì, sì, sì Aspetta No Io direi che è questa La volta buona Cioè Questa era una prova Qua si è vista proprio Questa era la prova Questa era la prova Alla volta buona Esatto Se no non puoi farla Vai Ok Adesso ci siamo scaldati Vai anche a Ambo 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 Non è No, no, no Qua sarà assolutamente Da tagliare Quindi ragazzi Preparatevi A un bellissimo taglio Velocissimo E indolore taglio Sarebbe bello Metterci le canzoni Tipo Quella di Tipo Si chiama Benigni Culo Vi farò Questa qui Questa qui Questa è una prova Di pazienza Perché Riuscire ad arrivare Fino in fondo Senza Sclerare Non è proprio Una cosa semplice È impossibile Guarda qua Oh Sono arrivato al punto Critico Il punto Buggato Ecco Mi sono rebuggato Guarda Guarda Di nuovo Di fermo Ah no Al gioco Si vede La mappa Tu hai riuscito A superare Quel punto Io si Come hai fatto Eh Sono andato avanti C'è la scaletta Mi ha fatto salire Senza saltare Né niente Hai semplicemente Premuto avanti La prima volta Avevo salito Sì salito Avevo saltato E non avevo battuto La testa Ok Una posta Uno dei due Ce la farà Ok ce l'ho fatta Semplicemente andando avanti Senza saltare Senza niente Oddio mio Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ambo Guardami Guardami che se no Non ci sono le prove Si caduta Per guardarti Sen caduta Non ci fosse Però ce l'ho fatta Cheat Cheat E allora Non ci sono le prove Se ci fossero Le ho cancellate Io voglio chiedermi Chi progetta la biblioteca In questo modo Cioè non ha senso Signori signori Abbiamo Ambo Sul paletto Numero due Ce l'ha fatta Attenzione Su La sua nemesi Aspetta io mi tolgo tutto La nemesi Tu premevi solo avanti E sei passato avanti Solo avanti Solamente avanti Attenzione Ambo Supera la nemesi Ma attenzione Ne rimangono ancora tre Ne rimangono due Attenzione La tensione sale Ambo ci prova Attenzione Anco il salto Qua devi fare un doppio salto Sono cadi Come è successo a me prima Attenzione I di pari E il pubblico Non il visibilio Saliamo Oh Facile e facile Proprio Ecco qua il nostro cubetto Che ci servì Io da Inizio di questo Di questa mappa Dall'eprima episodio Ero convinto Che il blocco Di lana qua Questo qua Grigio Nero Fosse la nostra Casa base Invece era quello La giallo Buona Quindi ora ci manca Il marrone Marrone Che ci mancasse Che non vedo Da nessun Acqua di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Corriamo 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 E' più veloci Dove Mi sa che è sopra Questa casa Sto cercando Una scaletta Però se ci fosse Una scaletta Qua ho trovato Una piuma Non si che dobbia saltare Su un po' di casa Ecco qua Tira di qua Ecco Eh no Poi anche non salire Da un palazzo scoperto Però è la strada giusta E adesso salti Di qua Sono salti di fronte Su quello Ok Stati da qua E ci siamo sotto La vasca di acqua O cacchino Secondo me ci vuoi buttare Oh sono caduto Stavo guardando Solamente Stupido personaggio Come si fa Ma non si deve buttare In quella vasca Andare giù Si può scendere Vero nell'acqua Sì sì Ma Secondo me ci crepo Potente Però ci prima Che Leggo va avanti Così magari per terra Sul tuo cadavere Che dovrebbe essere più morbido Devi fare un doppio salt Tranquillo Ce l'hai fatta Sì però ho battuto il bordo Sono mezzo morto Ma ce l'ho fatta Fatti vedere quando scendi Eccolo Anch'io ho battuto il bordo Panico Ma ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Vabbè dai L'importante è quello Tu l'hai fatto da beta tester Andiamo un po' Sto controllando se ci sono più Uno qua sotto No non ci sono Le alghe Anche io ho preso qualche alga Buona Che è abbastanza schifo Una volta avevo provato a mangiare le alghe Ma Quindi Leggo Visto che siamo nell'ultimo episodio Dicci un po' Come ti è sembrata questa esperienza Su Minecraft Che hai vissuto per la maggior parte Contexture bugate Che non capivi niente Vabbè tralasciando la parte dolorissima Del periodo di Contexture bugate No comunque Era divertente Insomma come mappa Tralasciando anche i momenti di rosic estremo Per il fatto che non si riusciva Soltare una dannata sporgenza Su una dannata sporgenza Però è carina È divertente La mappa Quindi sì posso dare un'opinione Positiva su Minecraft Probabilmente non l'aprirò mai più Finché qualcuno non mi costringerà a fare qualcosa Ma Positiva Allora ti costringerò a breve a fare Una nuova mappa Wow Secondo me è impossibile fare questo salto sai Sì Tu lo so vuoi Eh sì È impossibile saltare sulle torce Oh ce l'ho fatta Come hai fatto a saltare dall'altra Ho saltato proprio all'ultimo Quando stavo per cadere giù Ma Cazzo che mi ha dato un doppio salto Anch'io ho fatto la tua stessa cosa mi sa Se non è di gomma qualcosa che Eh sì ti fa rimbalzare probabilmente È un tappetino Grazie a tutti